Entreremo in campo per vincere, per uscire a testa alta, per ripetere se non migliorare la prestazione che è stata fatta contro la Germania. Quindi nessuno sconta nessuno e il nostro obiettivo è uno, quello di uscire dal campo a testa alta con tre punti. Ho avuto la fortuna di poterci giocare qui in nazionale e avrei voluto avere la stessa fortuna nella squadra del club, così non è stato. Però credo, come ho già detto più volte, che Melania sia una grandissima persona, oltre che una grandissima calciatrice. Quindi le auguro solo il meglio per quello che dovrà affrontare e per il futuro.